Dal 1977, esperienza e professionalità nella lavorazione del castagno. La Chinucci Legnami nasce nel 1998 nella prosecuzione della tradizione della passione nell'arte della lavorazione del legno. Da sempre la ricerca della qualità nelle materie prime ha rappresentato l'obiettivo principale dell'azienda che con il passare del tempo ha poi diretto i propri sforzi verso il raggiungimento di un elevato standard qualitativo nel settore della lavorazione e finitura dei prodotti, anche grazie all'utilizzo delle attrezzature più all'avanguardia e all'espensione delle aree dedicate al magazzinaggio. La collaborazione di personale altamente selezionato e di mastri del settore ci pongono sicuramente tra le più qualificate aziende del settore. Grazie a tutti!